questo evento e di portare questa discussione nel nostro studio. Passo il microfono a Giulia Ricci che modererà l'intervento. Grazie, grazie dell'invito. Mi piacere di fare la vostra conoscenza. Funziona? Funziona, funziona. Trovo che questo dialogo, questa occasione in particolare ci consegni una sfida interessantissima. Cioè quella della sostenibilità su cui il design si sta ormai interrogando diciamo da vent'anni almeno, se non di più. Però mi chiedevo... Può darsi seriamente da un po' meno. Seriamente da un po' meno, ma questo sicuramente lo affronteremo. Un territorio diciamo quello della sostenibilità che come dire adesso arriva anche a San Lorenzo e sarei, dato che si parla appunto di nautica sostenibile, un cantiere aperto. In questo evento sarei curiosa di sentire di più da Massimo Perotti appunto come San Lorenzo sta affrontando questa sfida e quali sono diciamo le challenge, come le chiamano, maggiori in questo momento. Grazie. 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 Grazie a tutti. di questa esperienza ogni mese dialogo con i miei investitori che hanno creduto in San Lorenzo, creduto in me, acquistano i miei titoli, devono decidere se tenerli, comprande di più, venderli eccetera. Allora primo punto, parto da qui, parto un po' lontano ma per farvi capire quanto, non so se rimbombo, si sente bene, quanto è importante l'aspetto sostenibile, l'approccio green al mondo e vi confermo che lo è molto e lo è diventato molto di più dopo il Covid, ammesso che possiamo parlare di dopo Covid. I miei investitori negli ultimi 12 mesi, quando mi incontrano, la prima cosa che mi chiedono è qual è il tuo progetto sostenibile. Come pensi di produrre le barche nel miglior modo possibile, non tanto per la comodità, il piacere, la bellezza di chi le compra, ma dal punto di vista se le barche sono o non sono sostenibili, quindi se usi materiale riciclato, se consumano poco, di più, eccetera. Addirittura alcuni fondi importanti, alcuni di questi sono anche dei soci in San Lorenzo e quindi parlo di BlackRock, Templeton, JP Morgan, fondi pesanti, ci mandano delle lettere e ci chiedono qual è il tuo progetto sostenibile. Noi non vogliamo più investire nelle aziende, loro le chiamano carbon footprint, cioè aziende che fanno prodotti che inquinano. Ora noi non produciamo motori, ma le nostre barche vanno a motori, quindi senza i motori non hanno ragione di esistere. Quindi nel momento in cui la finanza che negli ultimi 50 anni ha guidato l'economia nel mondo occidentale, che poi è stato il mondo che ha vinto rispetto all'altro mondo dopo la caduta del muro di Berlino, se la finanza è la prima ad incidere in modo così importante sugli imprenditori, quindi sull'economia reale, io penso che questo sia un segnale forte. Perché poi senza il denaro, senza le banche, senza la finanza, gli imprenditori non ha la possibilità di crescere, di investire, di fare nuovi prodotti e quindi di fare l'economia reale. Quindi il dopo Covid ha dato una sensibilità non soltanto ai giovani, alle persone diciamo meno aggressive da un punto di vista economico sul mercato, ma ha dato una forte sensibilità alla finanza che è quella che è un po' il motore della crescita industriale. Quindi il problema è serio, è percepito e sempre di più sarà sentito. se noi fra dieci anni accetteremmo di costruire un ospedale inquinando, lo accettiamo perché sappiamo che l'ospedale è necessario, non possiamo fare a meno degli ospedali, ma probabilmente fra dieci anni l'idea di costruire uno yacht per far andare un riccone a fare il bagno ci piacerà un po' meno. Quindi se la San Lorenzo oggi non si ponesse nella condizione di fare sostenibilità vera, non greenwashing, poi parliamo anche di quello, saremmo probabilmente fuori mercato entro dieci anni. Quindi la nostra consapevolezza deriva dall'essere persone serie che tendono a fare le cose giuste per il mondo, ma perché i nostri finanzieri, i nostri soci ce lo chiedono e perché abbiamo ovviamente una responsabilità rispetto al sociale. Quindi la mia risposta è che stiamo lavorando tantissimo e consapevoli che è una partita delicata, è importante. Mi chiedo da un lato quali possano essere considerate da un lato vostro anche appunto le sfide più grandi a livello proprio di produzione in questo senso, se posso. O magari forse questa è una domanda anche a Patricia. Passiamo, passiamo a Patricia, fra pochissimo. Allora, come tutti sanno, il discorso della sostenibilità è dato da questa sigla, no? ASG, l'ambiente, il sociale e la governance. Allora io oggi preferirei parlare dell'ambiente e quindi del prodotto, che è più sostanzioso che non la governance e il sociale. Sulla governance e il sociale la San Lorenzo fa molto. Abbiamo addirittura fatto una fondazione, i soci di San Lorenzo, la Holding e la mia famiglia abbiamo fatto una fondazione proprio per avere molta cura del sociale, diamo grandissimi contributi a tutto il territorio, quindi restituiamo al territorio una fetta del nostro profitto. sulla governance siamo attentissimi, ancorché quotati, ma esistono delle indicazioni, quindi la quantità di uomini e donne nel consiglio, tra i sindaci, nei manager, insomma, però questo direi che conta relativamente di meno. Quello che è fondamentale è l'ambiente. Abbiamo e stiamo investendo molto in una serie di prodotti che sono sostenibili, quindi partiamo dal primo. Io cercherei di concentrarmi su questi perché forse sono quelli che vi interessano di più e che poi avranno un vero ritorno per i prossimi dieci anni. Ricordiamoci gli ospedali che costruiremo nel 1930. Il primo prodotto che riteniamo un salto importante tecnologico fatto dal cantiere è l'SD90S. L'SD fa parte della linea semidislocante, quindi sono delle navette che già per loro come concetto consumano molto poco perché sono dislocanti, non sono barche plananti o veloci. Tutta la linea semidislocante è stata disegnata da Patricio Chiola, ci è piaciuto l'idea e ringraziamo Patricio di aver accettato l'encarico. Lei ha fatto l'SD96, l'SD118. Adesso stiamo ultimando, lo porteremo a Cannes, lo presenteremo a Cannes a settembre l'SD90 e poi farà l'SD132. Quindi tutta la gamba delle navette verrà disegnata da Patricio. L'SD90 si chiama S proprio perché è sostenibile perché abbiamo voluto concentrarci in modo particolare per fare un primo prodotto San Lorenzo è veramente sostenibile. C'è tutta un'area di utilizzo di materiali che riducono i consumi, quindi vetri che riducono il passaggio dell'UV e quindi minor necessità di aria condizionata per rinfrescare la barca, quindi minori consumi dei generatori. Scelta degli elettrodomestici a basso consumo elettrico e quindi anche in questo caso generatori più piccoli. L'esistenza del fotovoltaico che permette di ricaricare le batterie senza utilizzare il generatore che comunque consuma gasolio e quindi inquina. Abbiamo le batterie litio a bordo per cui una volta buttato l'ancora tutto il pomeriggio, tutta la mattina, insomma la giornata in mare è sempre svolta senza l'utilizzo di motori termici e di notte si può stare in mare senza accendere i generatori. A di là di tutti questi elementi è intervenuta Patricio con gli interni a disegnare una barca un po' speciale. E qui passerei la parola alla nostra designer che ha fatto un bel salto mortale. Nel senso della tua vita professionale hai risolto una serie di sfide diciamo anche di prodotto e architettonica anche estremamente complesse. Immagino che appunto la complessità come dire di una casa sull'acqua alla fine abbia anche delle sue specificità. Quali sono le specificità che hai colto anche nella tipologia di yacht che appunto San Lorenzo generava? Mira guarda io non sono un progettista che prima di tutto neanche specialmente ambiva a lavorare in questo tipo di questa tipologia. Ero anche lontana ma capitò una cosa molto interessante che Sergio Buttiglieri con chi io lavoravo in Driade ha assolutamente un'esperienza che ho avuto proprio ai primi 2000 anche stiamo parlando già di 20 anni fa. Era un'azienda Driade con un modo di affrontare il progetto molto interessante. Pertanto il fatto che lui rappresentasse questa azienda mi incuriosì e mi fece comunque capire come è questo dialogo. Non essendo comunque neanche io specialmente interessata dovevo capire un po' di più. E con Sergio abbiamo conosciuto questa azienda e lì nasce la differenza. Cosa ho capito? Parlando, ragionando, partendo con il primo progetto per capire se c'era una validità, mi sono trovata con quello che mie figlie direvano, non so quel termine, un personaggio sufficientemente invasato, se può dire così, non lo so. Invasato lo dico dal punto di vista positivo, non ho termini italiani sufficienti per spiegarvi questo in una maniera meno diretta, ma per poter con lui affrontare da un punto di vista completamente diverso o comunque cominciare una strada dove dice questa persona ci crede e sta affrontando progettisti che non sono del campo della nautica, che non può portare nella sua strada e non ho nessun'opinione su chi comunque sia specialmente dei specialisti. Mi va tutto bene, ma intanto lui sta aprendo un discorso con personaggi che stanno già lavorando prima di me e comunque in questo momento ha detto anche Spiro Lissoni con chi ho lavorato e una persona a quale io ci credo e che è molto valido. Pertanto dall'inizio ho detto secondo me c'è spazio, c'è spazio per sperimentare, per cambiare le regole del gioco, è una persona che secondo me se lo provochi, se comunque porti le tue preoccupazioni al progetto, secondo me queste barche hanno la possibilità di ragionare diversamente. Pertanto dall'inizio del progetto, questo è il terzo capitolo, che tra l'altro è interessante. Il primo capitolo era il CD96, una barca che io affrontavo, come la possiamo guardare da un altro punto di vista, anche se io arrivo dall'interno. Prima di tutto avrà a che fare molto con la trasparenza, con il luogo, con la trasformabilità, tutte queste cose, l'utilizzo di certi materiali e fare comunque il collegamento verticale nella barca che comunque erano finalmente non queste scalette un po' moribonde che collegano queste barche così importanti e creare comunque dei luoghi d'architettura, ma tutto questo non è sufficiente. La seconda barca, però quando arriviamo a questo capitolo, molto interessante, la terza barca quando uno lavora con queste aziende, il progetto è progressivo, la terza barca è quella più grande, che io tra l'altro con questi discorsi non torno tanto bene a mai molto, quel discorso è partito nel CD96, la 118 dopo alla 90 vuol dire più piccola, ma più piccola perché abbiamo cominciato a dire dal primo discorso, dal primo giorno, dicevo ma alla fine queste barche quando riusciremo a farle autonome? Possibilmente è un impossibile? Non lo so, possibilmente è un impossibile, sì, possibilmente è un impossibile se non parliamo di barca a vella, come ci arrangiamo con questi grandi spazi che girano al mare, che hanno così bisogno di certe energie? L'idrogeno, ben sappiamo che stanno facendo salti mortali per capire come questi motori portarli almeno su questa strada e sono temi che lui non si mette sul tavolo perché si sta lavorando, perché non si è arrivato ancora alle qualità necessarie, però credo che sto parlando con una persona che è capace di tutto. Secondo me quando lavori non è così importante che io descriva tutti i materiali con i quali abbiamo usato che tra l'altro ci sono, perché tutte le boiserie o le pareti, io penso che quando lavori in una barca, un tema molto interessante, è che l'unico luogo o spazio architettonico dove ti tocchi le pareti o tocchi le superfici verticali perché veramente c'è questo movimento inaspettato e pensavo la parte più materica, più interessante del progetto, devi intanto andare sulle pareti perché sono quelli specialmente quando scendi, quando cammini, sei sempre in contatto e abbiamo cominciato a lavorare in legno a trovare delle temi, quel tema lì per esempio in questa barca abbiamo detto basta, adesso lavoriamo su una carta reciclata, pertanto ci sono dei passaggi molto naturali, tutti i paramenti che utilizziamo prima della scala e che alla fine danno dei filtri, della luce, alla fine dello spazio, sono con dei vetri, dei nuovi materiali che vengono comunque da un reciclo del vetro, tutti i piani in marmo che di solito sono quelli che abbiamo pensato dall'inizio per la cabina dell'armatore, sono diventati anche in un rispetto di nuovo terrazzo, ma un terrazzo anche lui di nuova natura, comunque che non ha certi aggreganti, che è fatto comunque tutto, ogni materiale che affrontiamo, ma non è abbastanza, pertanto uno dei temi importantissimi è che se lavora con gente come San Lorenzo sai che comunque è quel che noi riusciremo con questa barca, che è ancora una S piccolina, io credo molto nelle S intermedie e credo che comunque queste S grandi sono parte di un percorso, ma secondo me si arriva a questi percorsi quando lavori con persone che, non so, quello che stava dicendo prima, lui non pensa per il 2030, secondo me lui vuole farlo molto prima, maledetto e benedetto, fantastico, questo è quello che, non so, lavoro con certe aziende italiane per questo motivo, perché quando trovo un personaggio che dico lui ne va a prendere, ogni problema lo va a fare diventare qualcosa, e veramente in pochissimi anni l'abbiamo visto, non so se mi spiego, questa è l'unica cosa che dobbiamo avere avanti, cioè collaborare in processi che vanno oltre la SIEP, sicuramente. Vedo che è un processo anche estremamente condiviso. Guarda, sostenibilità, ho parlato con loro dall'inizio, e lo sanno loro, li guardano due negli occhi, e un po' mi guardarono dicendo adesso è arrivata lei che vuole anche sostenibilità, e in sei anni mi hanno, guarda adesso, che si motore ibrido, che questo qua, cioè, ne va a letto, gli dici una minima parola e lui una notte rilavora 25 temi su quello, alla mattina seguente ti ha già messo un piede sopra e sta sopra il ponte, e questo è parlare con questa gente, fantastica. Allora a quel punto non sono specialista, ma non lo voglio essere, voglio gente che si mette in gioco, che mi fanno anche correre, che io li faccio correre, che c'è dialogo, questo, è l'unica cosa da raccontare, non è così importante il resto. Quindi diciamo che il primo approccio appunto è arrivato tramite Driade, Sergio Buttiglieri, ero molto curiosa di sapere appunto dal lato appunto dell'azienda, anche la scelta ad esempio degli architetti, dei designer che lavorano con voi, in che modo appunto cercate quella relazione e come li portate poi anche a interpretare quella che è la visione aziendale, anche la visione di sostenibilità, che è una sfida che ha da solito. Beh sì certo, Sergio è stato un grande aiuto, perché con i suoi vent'anni in Driade ha portato in San Lorenzo un'esperienza che in San Lorenzo non c'era, ma non c'era in tutta la nautica. Noi abbiamo iniziato a lavorare con i designer milanesi di un certo livello nel 2008, con Dordoni abbiamo fatto il primo 106, che è stata una rivoluzione. Attenzione, non è tutto positivo, ho fatto una bacca di 31 metri con tre cabine, l'ho portata, probabilmente ne hanno 5 i 31 metri, l'ho portata al salone e il mio amico Norberto Ferretti, allora lavorava ancora nella Ferretti ed era il primo concorrente, è venuto a bordo per la prima volta, quindi vuol dire che se era venuto a bordo qualcuno gli ha detto che valeva la pena andare a vedere il nuovo San Lorenzo 106, è andato a vedere la bar che è uscita e mi ha detto bellissima, ma questa l'hai fatta solo per il salone, perché non la vende a nessuno. È come la cucina fatta con Piero, no? Poi si, poi è intervenuto Piero. La cucina con Piero che figura che era solamente per il salone, in qualche modo guardiamo questo spazio da un altro punto di vista. vediamo che l'armatore capirà un giorno e comunque può darsi quello spazio nella testa di Piero, era già logico, perché non unire tutto? Troviamo sto chef, diventiamo tutti chef, affrontiamo la barca diversamente, non è una provocazione, è un pensiero e queste sono le cose che incrociano le sue idee. No, no, è una provocazione, perché Piero mi ha detto di andare a comprare la pizza e non cucinare a bordo, quindi... Ma lui è un dolce provocatore. Poi però l'abbiamo venduta costruendo la cucina, nel senso che l'abbiamo fatta dopo, ma bisogna provocare, perché solo provocando riesci a portare la palla avanti, riesci a capire cose nuove. Tornando all'SD90S, grazie a Patricia che ci ha segnalato una serie di aziende fornitrici di materiali riciclati dalla carta, dalla plastica, eccetera, noi riusciremo, speriamo di arrivare al numero 30, non lo sappiamo ancora, stiamo lavorando, riusciremo a produrre la barca per il circa 30% con materiali riciclabili. Questo numero verrà scritto in un cerchio nella prima pagina del Deppian, per cui chi comprerà questa barca sa che compra una barca che per il 30% è fatta da materiali riciclati. Io penso che fra dieci anni, sto parlando sempre di dieci anni perché comunque è bello pensare un tempo lungo, probabilmente poi ha ragione Patricia, lo faremo prima. Quando parla di dieci sono cinque, perché è una bellissima cosa. I nostri clienti non sceglieranno la barca perché è bella, è comoda, è confortevole, ma perché quel numero invece di 30 magari sarà 40 o 45, sarà comunque un numero più alto della concorrenza, per cui chi comprerà una barca sapendo di consumare, sapendo un po' di inquinare, avrà almeno la coscienza pulita dicendo vabbè, per il 30% è costruita, per il 40% è costruita. Quindi quel numerino sarà l'inizio, e lo faremo sull'SD90S, sarà l'inizio di un nuovo modo di pensare, di un nuovo modo di scegliere la barca. Mi sembra che sia un modo di ragionare su questa scala di progetto che è anche molto all'avanguardia, ma mi chiedevo, mentre parlavate anche degli spazi interni, per esempio dei materiali, del riciclo, via dicendo, qual è la sensibilità di chi compra le vostre barche, come è cambiata negli ultimi anni rispetto all'ambiente? Sì, con il Covid, strano a dirlo, non si capisce neanche perché, è aumentato. Sono stati anche a casa anche loro? Sì, c'è stata un'accelerazione incredibile. Noi abbiamo fatto la prima barca ibrida elettrica nel 2015, difficilissima, problemi enormi nell'istruire l'equipaggio. Il cliente che l'ha comprata l'ha pagata tanto di più, con tanti problemi, per cui mi hanno detto mai più. Ne abbiamo fatto una seconda, disastro. A quel punto l'abbiamo proprio abbandonato, il progetto, 2015-2016. Dal 2021 abbiamo venduto quattro imbarcazioni, tra i 50 e i 70 metri, tutte le diesel elettriche e la richiesta principale di ogni cliente è, ma posso avere l'elettrica? Quindi, parliamo di dopo Covid, per dire, dal 2021 in poi la sensibilità è veramente aumentata tantissimo e quindi siamo, ovviamente sto parlando del mondo occidentale, quindi del mondo che ha più sensibilità verso queste cose. Il terzo mondo viene sempre un po' dopo ed è normale che sia così. Viene anche un po' scimmiottando il mondo occidentale, cioè copiando quello che fanno gli europei e gli americani. Un altro messaggio, io ho tre messaggi per oggi che vi fanno capire che è molto più veloce dei dieci anni, quindi mi ha scoperto le carte, Patrice. Noi abbiamo iniziato con l'SD90S e sono felice che Patrice sia qui con me questa sera perché lei è stata promotrice, mi ha spinto molto in quella direzione. Entro sei mesi ci sarà sul mercato il nuovo BGM, che sarebbe il Blue Game Multiscaffo. nel gruppo San Lorenzo non si era mai pensato di produrre un catamarano, il catamarano ha la sensazione di caravan, di qualcosa che è lontano dal lusso, dal lusso, dal bello, dall'elegante. Il prodotto San Lorenzo è un prodotto di nicchia molto elevato. Noi ci siamo inventati, BG e Blue Game sarebbe un prodotto, un brand del gruppo e utilizzando il brand Blue Game M sta per Multiscaffo che ci piace molto di più che un catamarano. Però grazie a questo progetto noi abbiamo già testato la barca in acqua. Voi considerate che il BGM 75, che quindi è un 75 piedi largo 8,60 m perché con il doppio scafo le barche sono più larghe. Abbiamo lo stesso spazio fruibile dell'SD90 che è una barca semidislocante, navetta che consuma poco, quindi già prendiamo riferimento a qualcosa che è estremamente efficiente da un di vista dei consumi. Bene, l'SD90 equipaggiato con dei motori MAN MTU da 1200 cavalli fa 18 nodi consumando 400 litri di oro. Il BGM 75 ha gli stessi spazi di vita, ha due motori Volvo da 600 cavalli, fa 18 nodi, la stessa velocità e consuma 190 litri. Quindi io utilizzo una barca che è simile all'SD90 che già è stato il nostro primo progetto sostenibile consumando meno della metà di quello che consumo. Quindi ipotizzando 300 ore di navigazione per un'intera stagione, 300 ore sono già una stagione bella piena, noi possiamo risparmiare 175 tonnellate di CO2 pari a 66.000 litri di gasolio. Quando abbiamo fatto il conto erano 100.000 euro, probabilmente oggi sono 130.000, 140.000 perché nel frattempo il gasolio è aumentato parecchio. Quindi quando si parla di prodotto sostenibile, ecco questo sicuramente è un prodotto che consuma, ma è sostenibile perché se io a parità di fruibilità consumo meno della metà, i clienti fra dieci anni andranno a scegliere quei prodotti perché saranno sempre più attenti al minor consumo. E questa è la seconda fase fra sei mesi. Poi passerei la parola a Patricia prima di dirvi la terza. Alla fine, quel che io penso che è molto interessante, collaborare con un'azienda come San Lorenzo e mi anima molto nel percorso è perché tutto questo discorso che stiamo dicendo va affrontato come il primo, il primo argomento, le diamo priorità. Secondo pertanto da risolvere, da affrontare sotto tutti gli aspetti. Ma secondo questo anche accompagna altri aspetti. Si è pronto a sentire da noi architetti fuori del campo discussioni di questo tipo e affrontarli e risolvere in maniera secondo me molto volontariosa e molto valida. È anche molto aperto, anche le barche si pensano da fuori e dentro, dall'escafo, ma oggigiorno si pensano molto in che modo quello che si progetta dall'interno può arrivare, può metterci in rapporto col mare, perché è anche delle gioie comunque di poter essere in un'embarcazione. Questo ha portato a creare comunque degli spazi o delle vetrate sempre più grandi. Ma io mi trovavo con un problema. La seconda barca aveva queste finestre così grandi, ma da fuori la barca aveva il problema che queste finestre, non so, diciamo la barca, non so, la vediamo anche gli altri. Perché questo interno-esterno da un lato funziona, ma dopo... Abbiamo cominciato a lavorare con delle pellicole che comunque anche la barca diventava tutta neutra. Allora, il progetto è sotto molti aspetti. Essere in diversi spazi e dire no, basta, noi togliamo via questo... Entra in una barca, dopo la fine la gente si mette dentro perché è accaduto un po' di pioggia, sono lì a vivere in quella stanzetta chiusa, malmessa, con una strana scala. Diciamo no, entriamo in uno spazio che si apre tutto e stiamo lavorando ogni modello. Non è che facciamo la barca più grande o più piccola, più sostenibile. Veramente facciamo tutto un trattato su come poter rovesciare questi spazi. Abbiamo cambiato moltissimo le vetrate, abbiamo parlato con i progettisti dello Scaffo, che sono fantastici, con chi comunque abbiamo veramente un dialogo molto incrociato. E penso che non è così importante elencare le cose sulle quali siamo contenti e stiamo risolvendo. Molte volte il fatto che le barche hanno questo che entra l'acqua e fare un piccolo salto fra l'interno e l'esterno, appena ti giri l'ango te lo fanno, perché così risolvere, come la doccia, devi tentare, l'hotel, tac, trovi le docce così. Siamo riusciti comunque a risolvere questo problema e dopo come far filante le barche, anche per gli altri che diventano degli ingombri minori. Il progetto è complessissimo. Dopo, per esempio, vai ai cantieri e che onore, vedi quanto sono dei progetti artigiani, ecco, c'è qualcosa di profondamente tecnologico e profondamente artigiano, sono, veramente, ti rendi conto anche questa gente che lavorano come un alveolare, io non so come riescono, perché a un certo punto c'erano ingegneri dentro di una parte delle Scaffo o l'altro che stava mettendo la buaceria, c'era, dicevo, veramente il salone del mobile è uno scherzo quando vai a vedere i cantieri navali. Ma veramente, ma loro sono, non so, sarebbero da fare film e film per raccontare questo, questo meraviglioso modo di lavorare. Pertanto, è un tema molto ampio. Dentro di lui c'è questo tema. Come le barcavella, sono autonome e sono fantastiche. Dobbiamo veramente che questi strumenti, dobbiamo essere intelligenti abbastanza, renderli autonomi nel modo che sono concepiti sotto tutti gli aspetti. E questo bisogna lottare e lottare con le persone giuste e tutti entrare in una pagina di conversazione. Ognuno apporta qualcosa. E questo è un discorso brisciolo. Mi è interessato molto quello che dicevi sull'aprire sia appunto le finestre sia gli spazi interni e gli yacht, per esempio. E mi chiedo, come è cambiato la tua, come dire, anche il tuo processo rispetto a questo tema progettuale nel tempo? Com'è evoluto, ad esempio, appunto l'SD96 fino a 2019? Abbiamo insistito a lavorare sulle parti che sono sotto scafo, detenerli comunque sempre con questi film, in modo che la barca è continua, è una linearità, cosa che hanno portato anche agli altri progetti. E quello sono molto orgogliosa. Abbiamo un tema che comunque si è allargato della nostra ad altri importanti argomenti. Non sempre saltano gli argomenti di una barca all'altra. Seconda cosa, delle parti alte le abbiamo sempre più alleggerite, alleggerite. Questa è la terza che stiamo facendo e ormai è un miracolo, capito? Non so come si tiene questo fly bridge, secondo me cadrà in testa a qualcuno, ma è divertente, interessante, veramente. C'è un lavoro ingerito veramente interessante, ed è vero, ecco. e dopo in più stanno nascendo, però non pensate che, diciamo, quello che è interessante è che la conversazione è diventata sotto molti aspetti molto aperta. Il fatto per esempio di fare un semplice lavoro di architetto che lavori sulle tre o quattro cabine che metti sotto scafo, che vogliamo far diventare comunque che sono cabine, ma che alla stessa volta mettiamo il bagno che lo dividiamo, non facciamo il bagnetto, quel bagnetto che ormai per noi è un bagnetto miserabile, perché noi non pensiamo che è un bagnetto. È pensato la cabina in una maniera che è interessantissima, è un'altra cosa, anche una cabina ospiti. Ci sono tanti passaggi, ma che ormai, possibilmente davanti a questa S dove dobbiamo lavorare tanto, sono assunti minori, ma possibilmente anche molto rispettabili. Mi chiedevo, quali sono i modelli, dato che prima appunto Massimo parlavi di greenwashing, per esempio, da cosa invece avete voluto proprio prendere le distanze fin dall'inizio? Beh, è proprio questo, cioè parlare di sostenibilità senza fare cose concrete. L'SD90S è un esempio concreto di prodotto sostenibile, dove abbiamo usato molti materiali riciclati e quindi abbiamo fatto uno sforzo progettuale, costruttivo, anche perché devi poi convincerlo il cliente a non mettere il piano di marmo sul bagno e a mettere un materiale che è riciclato dalla plastica, dove sembra che sia marmo. Ho riciclato da un terratto, comunque ti temi... Comunque devi un po' vendere questo concetto, perché insomma chi compra una barca vuole la bellezza prima di tutto. Secondo, iniziare a progettare un catamarano che, non so se avete in mente come sono i catamarani un conto, un monoscafo, un conto e un multiscafo, sono oggetti completamente diversi, ma li abbiamo progettati tenendo conto che siamo a San Lorenzo, quindi molto più stretto, affilante, quando lo vedo di poppa non mi accorgo che è un catamarano, neanche di fianco, davanti sì, perché per forza c'ho due scaffe e non posso farne a meno, però l'abbiamo veramente camuffato perché c'è tutto un mondo che non ha tanto piacere di andare su catamarano, perché così ha la sensazione di andare su un catamarano e non su una barca elegante e bella. Terzo elemento, che era quello che volevo raccontarvi questa sera, e questo è l'elemento vero che cambierà il mondo dal punto di vista delle navi, prima ancora che degli yacht, e che sono le fuel cell, cioè le celle a combustibili. Voi sapete che le automobili stanno facendo un grosso sforzo, ma stanno vincendo le utilitarie, quindi la Fiat 500, la Smart, le piccole automobili che si usano in città saranno elettriche. Le automobili medio-grandi non riescono a farle elettriche con una sufficiente autonomia, e non c'è niente da fare. Non so se Elon Musk decide di licenziare 10.000 persone sui giornali due giorni fa perché ci aspetta una grande crisi o perché forse la gente comincia a comprare meno le sue macchine perché per andare da Milano a Torino non riesci a tornare indietro se non la ricarichi, se non hai tempo di ricaricarla diventa un problema, se vai per ricaricarla e ce ne sono 4 davanti a te devi perdere. Ci sono quelli che arrivano, posano la macchina, la ricaricano, prendono dalla macchina il monopattino e vanno con il monopattino elettrico. Quindi ci sono dei problemi seri. La vera soluzione per il futuro sono le celle a combustibili, le fuel cell. Come funzionano? Avete un'idea? Praticamente sono dei lamierini finissimi, pittorati di platino perché è il maggior conduttore possibile, qui si mette dentro l'idrogeno, si soffia l'ossigeno, sono i due elementi che si trovano di più in natura e viene fuori energia elettrica ed il rimasuglio, quello che rimane da questo fenomeno chimico è l'H2O, acqua. Cosa c'è di più bello? Usiamo i due elementi che costano nulla e che sono più presenti al mondo e il residuo è acqua. C'è solo un piccolo problema che nella seconda guerra mondale esisteva la bomba H, la bomba idrogeno. Quindi stanno progettando tutti i camion, tutti i costruttori di camion, quindi Volvo, Scania, MAN, stanno tutti progettando i camion a fuel cell perché dietro alla cabina si possono mettere queste bombole di idrogeno, stanno facendo le bombole di idrogeno sotto 700 bar di pressione, vengono costruite con degli stampi di carbonio e vengono fasciate dal carbonio pur di mantenere 700 bar di pressione e tanto. Però per una nave, la nave ha le riserve di gasolio, quindi le tank di gasolio nel doppio fondo. Quindi io nel doppio fondo se devo mettere l'idrogeno ho una bomba nel doppio fondo della nave. Nessuno si sentirebbe di andare in vacanza. Allora San Lorenzo ha fatto un accordo, quello che abbiamo scritto, con la Siemens Energy, la Siemens è un'azienda tedesca molto grande, 500 mila dipendenti, 120 miliardi di capitalizzazione, che sta progettando, inventando una macchina che si chiama Reformer e quindi permetterà alla San Lorenzo di essere il primo cantiere al mondo, e parliamo di estate 2024, quindi prima nei dieci anni. Siamo i primi al mondo a costruire un 50 metri con le fuel cell, grazie a questo accordo di esclusiva con la Siemens. In questo momento i due grandi cantieri di alta qualità al mondo, che sono Fetship, un cantiere olandese, sta facendo un 98 metri che andrà in acqua nel 2025, e un altro cantiere che è Lorsen, tedesco, fa un 130 metri, sono due gigaiotte nel 2026, quindi noi riusciamo a farlo un anno prima su un 50 metri. Più è piccola la barca e peggio è, più è difficile farlo. E faremo la barca che andrà a metanolo, ossia si utilizza il metanolo che è un liquido che ha le stesse proprietà del gasolio e quindi zero problemi di scoppiare come l'idrogeno, può essere messo nelle casse nello stesso modo, quindi si può trasportare con la stessa facilità del gasolio. Il metanolo entra in questa macchina che viene costruita dalla Siemens che si chiama Reformer, il Reformer trasforma il metanolo in idrogeno e quindi l'idrogeno entra nella fuel cell, l'ossigeno viene soffiato, si prende l'ossigeno e si soffia e quindi si produce l'energia elettrica e il residuo è acqua. Quindi abbiamo veramente trovato la soluzione al problema, perché non abbiamo più il problema di trasportare l'idrogeno, l'idrogeno lo produciamo per quanto necessario, trasportiamo il metanolo, ma c'è un problema, perché la vita è sempre più complessa. Nel trasformare il metanolo in idrogeno produciamo il CO2 e quindi a questo punto cosa abbiamo risolto? Allora la tecnologia viene in aiuto, io sono convinto che siamo davanti a un importante salto tecnologico nel mondo che cambierà la nostra vita. Si può produrre il metanolo green con tanta energia elettrica e consumando CO2 si produce il metanolo green, utilizzando il metanolo green si produce l'idrogeno producendo CO2, ma se per produrre il metanolo green consumo CO2 e per trasformarlo produco CO2, le due cose si ridono e quindi io veramente riesco a produrre a bordo della barca o della nave da riporto energia elettrica senza produrre CO2. Il metanolo green ha bisogno di energia e consuma CO2. Il futuro sarà molto più importante tutte le produzioni di energia che consumano CO2, cioè non sarà tanto importante non produrre CO2 per pulire l'aria, sarà molto importante fare delle attività che consumano CO2, quindi tolgono il CO2 dall'aria. Il metanolo green fa questo e questo sarà veramente una rivoluzione. Attenzione lo stanno facendo nelle navi, noi lo stiamo facendo come azienda per primi al mondo per fare gli yacht, ma considerate che lo yacht è lo 0,1% del trasporto navale nel mondo. Siamo noi che inquiniamo, sono le navi che per 365 giorni all'anno vanno avanti e indietro. Gli stessi costruttori di motori, quindi MAN, MTU, Caterpillar, stanno trasformando i motori da diesel a metanolo e questo è fondamentale perché allora vuol dire che uno può costruire una nave, mettere i motori che andranno a metanolo, usare le casse del metanolo per far funzionare il fuel cell. Comunque non vi ingannate, non ci sta spiegando niente, se lo sta raccontando a se stesso. Quello che trovo meraviglioso di te è che qualunque tema del quale parliamo, pur che sembri collaterale, le poche volte, perché non è che siamo sempre insieme, torna a casa. Quando lo ritorno mi fa tutto un discorso, l'ha elaborato il tema, lo ha masticato e questo secondo me è quello che fa sempre la differenza, sempre quella. Parliamo del catamarano perché lo sta facendo adesso. Mi parlavano una volta e diceva dove faremo il catamarano? Non so se il catamarano è una cosa che mi piace. Adesso ce l'ha in testa. Io avevo un padre, ho avuto la fortuna di avere un padre che mia madre doveva sempre litigare con lui dicendo ma Juan sei già in quella roba di domani, torna che siamo ancora oggi. Ecco, è questo tipo, ho sempre, è un po' difficile anche da gestire a volte, ma io ho un po' quello e tu ce l'hai fortemente. Pertanto lui è sempre avanti, io credo che questa meraviglia dell'intelligenza, non lo so, non so latina, non so, diamoci qualche grado, questa complessità di affrontare con una grande, comunque enorme umiltà. Credo che io non posso lavorare sul lusso se io lavoro con gente che mi parla di lavorare sul lusso. Se parlo con persone che comunque sono lì, se si ne basa in PIP, hai capito? Io devo lavorare con gente su qualunque tipo di progetto dove non ci sono pregiudizi, dove le persone che lavorano cresciamo, non so, c'è una crescita di dialogo fortissima e veramente sei favoloso. Ecco, io lo penso. Non lo vedete? È lì, è lì. Sono gli imprenditori che abbiamo bisogno, sono comunque le stanze del potere che devono cambiare tutti i giorni, tutti i giorni. Se noi creativi parliamo da soli, è una conversazione molto più triste della tua, te la posso assecolare. Infatti stavo arrivando proprio lì. Sì, ma guarda, noi siamo delicati, hai capito? Io sempre lo dico, guarda che siamo molto delicati, perché siamo comunque bombe a mano anche noi, ma ci vuole, non so, se chi gestisce, bisogna parlare anche delle donne, bisogna parlare di queste cose, se noi non mettiamo donne a gestire o comunque mettiamo persone che vogliono cambiare le cose, che sono avanti, che le dai un problema e lo moltiplicano per dieci. Questo è l'unico tema, l'unica maniera, non siamo tutti uguali, ognuno apporta cose diverse, però ci vogliono in queste, e specialmente per esempio in questi lati dove siamo il savoir-faire italiano, lì mi sento italianissima, io sono assolutamente spagnola, ma assolutamente milanese da tanti anni, trovo che questo, io dico che è milanese per non dire italiana, hai capito? Perché diciamo, non so, in qualche modo una piccola legame o eredità, o spero comunque fa parte della mia vita qua, è questo moltiplicare i punti di vista quando si lavora su qualcosa, e quello fa la differenza, ed è dobbiamo essere orgogliosissimi, e dopo le aziende, dopo nasce questa competitività fantastica, è un po' come se tornassimo a Genova, con tutti quelli, con quelli grandi lotte che crearono comunque le energie, l'altro giorno camminavamo un po' a Genova, diciamo, sentivamo ancora i flussi di tutti questi condottieri, è uguale, parte una e l'altra parte meglio, dopo l'altra parte, non possiamo dormire, andiamo a letto e un'altra volta, e queste cose sono necessarie, c'è tanto da risolvere. Non so chi lancia più sfide all'altro, non so, penso che è così, così si lavora, alla fine è il lavoro, questo è il lavoro, il lavoro accompagna la vita, è una cosa molto nobile. Non so chi lancia più sfide, ma l'importante è lanciare le sfide. O comunque anche dialogare, siamo in un secolo di dialogo, non un secolo di soltanto manifesto, qua a manifestare o comunque a dare delle direttive, è veramente dell'altro secolo. Quel tema lì è già stato svolto con tante limitazioni. Adesso siamo in un secolo di dialogo, e dopo il dialogo serrato, bellissimo. E questo io vi ringrazio a Sergio. Credo che il nostro tempo sia giunto al termine, mi confermano dalla regia. Io vi ringrazio, ma questa conversazione ha dato moltissima soddisfazione, ha fatto scoprire anche un sacco di cose nuove. E in bocca al lupo per il 2030 o 2024, o quel che sarà. E lo stesso. Ne abbiamo bisogno, sì. Esatto. Ma ci siamo. Grazie. Grazie. Grazie.